Attenzione puntate sul big match del Pallozzi tra Sulmone e Giulianova. Per il clima che si vive alla vigilia può essere considerata come una gara d'altra categoria. Entrambe devono però accontentarsi dell'eccellenza. I biancorossi nella scorsa stagione hanno vanificato tutte le scianze di risalita, mentre i giallorossi in eccellenza ci sono finiti dalla seconda revisione, grazie poi all'acquisizione del titolo sportivo del Cologna Paese. Con la classifica attuale il Giulianova punta a conquistare la vetta e il Sulmona a scavalcare proprio i giuliesi. Considerando che il pari non permetterebbe a nessuno di migliorare le proprie ambizioni, c'è da attendersi una super sfida tra due squadre che mirano a recuperare alcune occasioni perse per strada in queste prime giornate di campionato. La forza di Peligni e Giuliesi è stata finora ampiamente espressa con Torbione del Giulianova a segno cinque volte e Bolzan del Sulmona, autore dello scorso mercoledì del quarto centro stagionale. Tutte e due inoltre sono reduci da due successi consecutivi. I numeri parlano chiaro ed evidenziano il valore di quelle che sono sin da adesso due protagoniste del campionato. Vedremo se Antonio Mecomonaco riproporrà il modulo ad una punta e chi tra Guardabascio e Scandurra verrà schierato nel ruolo di terminale offensivo. La formazione di Pagliaccetti proverà invece a pungere con i vari Saccia, Improta ed ovviamente Torbione. La sfida sarà diretta da un arbitro di fuori regione Giovanni Eiroldi di Molfetta. Calcio d'inizio alle 15.